Ciao a tutti, nel video di oggi vi porterò con me all'interno dell'evento che si è svolto la domenica scorsa Sto parlando del Motor Expo 2024 Evento organizzato dalle sedi svolte di Popoli e dai ragazzi di quelle delle svolte Evento che fa parte dell'Italia Motor Week Come vi ho raccontato già nel video dell'anno scorso, ecco, per chi non l'avesse visto ve lo lascio qui sopra Qui sopra La città di Popoli Terme dall'anno scorso è entrata a far parte dell'associazione Città dei Motori Associazione composta dai comuni con una storia motoristica importante Ok ma basta con le parole, adesso vi porto con me Oggi è finalmente domenica 14 aprile e questo vuol dire che andiamo al Motor Expo Ok Motor Expo 2024 Allora voi non avete idea di tutte le macchine che ci sono Sceglierne una in particolare è veramente tosta E ovviamente io non potevo mancare Con lei Allora Vedere il paese pieno di macchine è una cosa fantastica Soprattutto perché eventi come questo Permettono a tutti quanti di vedere vetture che non sono tanto comuni O perlomeno che non si vedono spesso in giro Allora la situazione è questa Non so neanche se mi sentite Perché tra chi ha messo la musica e chi ha iniziato a sgasare c'è tantissimo rumore Però vengo a farvi vedere questa macchina qui Allora l'evento si sviluppa così È una mostra statica Di macchine da corsa Stradali Macchine d'epoca Moto Da cross Stradali Insomma c'è un po' di tutto Allora io penso Che questa sia una delle macchine più belle di sempre Io vi vorrei far vedere i cerchi Io rinnovo l'ingrasamento a tutti voi e buon proseguimento Se il video ti è piaciuto lascia un like Iscriviti Attiva la campanella E soprattutto fammi sapere nei commenti qual è la macchina che ti è piaciuta di più Noi ci vediamo settimana prossima E mi raccomando No Moti lo vi spegni E mi raccomando Sempre full gas